Ciao a tutti, bentornati sul canale traduzione di canzoni in musica spiegata e bentornati a coloro che guardano il video per la prima volta. Allora in questa puntata mi sembra doveroso andare a parlare di una cantante che purtroppo è venuta a mancare qualche giorno fa e è stata trovata appunto senza vita nella casa di Londra. Questa cantante che è irlandese, era irlandese che ha avuto molte vicissitudini sia familiari che legate al suo temperamento, nel suo modo rivoluzionario di approcciarsi al pubblico e alle persone con i suoi appunto ideali e venne appunto considerata non tanto quanto la sua bravura e quindi è stata molto giudicata da appunto per queste per queste sue idee che andavano contro il sistema. Questa canzone è una delle più famose di Sinnero Connor appunto parliamo, è una delle sue più famose ma che non è stata scritta da lei bensì da Prince e lei poi la riprese successivamente appunto cantandola veramente alla grande. Questa cosa Prince non la prese bene quando appunto leggeremo che quando si incontrarono addirittura arrivarono appunto quasi alle mani. Questa canzone che appunto ha sancito la sua salita al trono di cantante appunto internazionale è uscita l'8 gennaio del 1990 e quindi come abbiamo detto appunto il testo originalmente era composto fu composto da Prince per uno dei suoi progetti paralleli il gruppo musicale The Family appunto ma che è stata portata al successo da Sinnero Connor. Il testo esplora i sentimenti di nostalgia dal punto di vista di un amante abbandonato volevano che avessi capelli lunghi e indossassi gonne corte così mi sono tagliate i capelli cortissimi. Un gesto rivoluzionario come rivoluzionario è stata a tratti della sua vita e quindi come abbiamo detto diciamo che lei non aveva peli solo lingua e quindi anche per quello è stata giudicata e non ha avuto il successo che si meritava. La cantante appunto è morta come abbiamo detto recentemente il 26 luglio mi sembra l'età di 56 anni e lascia un'eredità musicale sociale al mondo. L'arte che si interccia con la storia irlandese, la religione e la politica. Venendo da una società patriarcale la sua vita è stata dedicata a fare esattamente il contrario di quello che le dicevano gli altri. Quindi se l'etichetta discografica la voleva in un modo lei prese la decisione di resarsi a zero e di indossare giacche di pelle, diverse oversights. La sua immagine andava oltre il femminismo dell'epoca era già moderna anticipando mode e discorsi di genere di circa 40 anni. Se però oggi parliamo di Siena O'Connor come anticipatrice del movimento femminista all'epoca degli 80 il suo atteggiamento controcorrente non la fece ben vedere come abbiamo detto il primo luogo dalla case discografiche ma anche dall'audience che a quel punto erano ancora un po' bigotti. Questa canzone diventa la più venduta in America e ha solo 24 anni lei. Quindi grazie alla sua magistrale interpretazione divenne l'inno dei cuori infranti di tutto il mondo. Al successo della canzone contribuì anche il videoclip il cui finale la cantante si lascia andare ad un pianto commovente. Contrariamente alla versione originaria che raccontava la tristezza del rapporto sentimentale andata in pezzi quella di Siena O'Connor era un omaggio a sua madre con la quale aveva sempre avuto rapporto tormentato. Il verso All the flowers that you planted eccetera eccetera che poi vedremo le provocò un modo di irrefrennabile commozione anche se tutti pensarono che i riferimenti fossero un amore perduto le grandi liste musicali anglosassoni inserirono la canzone tra le miglior di sempre. Ma a Prince non piaccue la cosa tanto che quando si incontrarono litigarono e Siena O'Connor appunto come abbiamo detto ha diritto al disputo contro. E quindi lei è stata questa testa che andava contro corrente e andava contro tutto e tutti era un treno. E quindi anche per questo è stata ancora più amata da dei propri fan. Come abbiamo detto appunto la canzone principalmente di Prince era era dedicata appunto a tutti i cuori infranti ma poi Siena O'Connor ha cambiato significato dedicandola a sua madre in cui lei aveva anche un rapporto molto tormentato perché appunto si dice che fu anche maltrattata dalla mamma e che appunto morì prematuramente in un in un incidente stradale. Appunto abbiamo detto la sua vita è stata molto molto tempestosa addirittura un anno fa venne a mancare suo figlio mi sembra di 17 anni morto per overdose credo e quindi lei appunto durante la sua vita affrontò dei problemi di depressione e quindi diciamo che ci lascia questi capolavori che noi che noi appunto porteremo avanti nel tempo. Quindi detto questo che era doveroso fare un omaggio a questa grande cantante andiamo a capire la traduzione e il significato di questa canzone che si intitola Nothing compares to you che vuol dire niente è paragonabile a te. Inizia dicendo It's been seven hours and fifteen days since you took your love away. Quindi been è il participio passato di to be. Quindi sono passate sette ore e quindici giorni. Da quando? Since vuol dire da quando? To took è il passato di take. Quindi tu hai portato il tuo amore via. I go out every night and sleep all day. Since you took your love away. Quindi io vado, esco tutte le sere e dormo tutto il giorno. Da quando? Tu hai portato via il tuo amore. Since you've been gone I can do whatever I want. Quindi gone è il participio passato di to go. Quindi da quando tu sei andato sei andata via. Sei andata via. In questo caso la interpretiamo nelle vesti di Sineco Conno dedicando alla mamma. Anche se lei non ha mai diciamo cioè ultimamente disse che non ha mai sentito propria questa canzone e quindi ultimamente non la cantava più. Però noi la interpretiamo nel nel significato della dedica alla mamma. Quindi da quando tu sei andata via io posso fare tutto ciò che voglio. Whatever è tutto quello, qualunque cosa io voglio. I can see whomever I choose. Whomever vuol dire chiunque. Whoever, chiunque. Quindi io posso vedere chiunque io voglio. Io scelgo. I can eat my dinner in a fancy restaurant. Allora fancy significa elegante. Ha diversi significati piacevole, attraente. Quindi io posso mangiare, posso cenare nei ristoranti, in un bel ristorante. But nothing, I said nothing can take away this blues. Allora blues vuol dire azzurro, celeste ma anche depresso. Quindi ma niente, io ho detto, I said, niente può portare via questa depressione. Quindi si torna sempre a quella malattia. Because nothing compares to you. Perché niente è paragonabile a te. Poi. It's been so lonely without you here. Like a bird without a song. E appunto B è il partecipatore di 2B. Quindi è stato così solo senza di te. È stato così solo senza di te qui. come un uccello, bird e uccello senza una canzone, senza un canto. Quindi è stato solo. È stato così solo. Potrebbe essere il tempo qui senza di te come un uccello che non ha un canto. Nothing can stop these lonely tears from falling. E niente può fermare queste lacrime, queste lacrime solitarie dal cadere. Tell me baby, where did I go wrong? Quindi dimmi tesoro dove ho sbagliato. I could put my arms around every boy I see. Io potrei mettere, arms sono le braccia, quindi io potrei abbracciare ogni ragazzo, ogni ragazzo che io vedo. But they only remind me of you. They, qui è should, quindi but they should only remind me of you. Quindi ma loro, to remind vuol dire di ricordare. Quindi ma questa cosa mi ricorderebbe, mi ricorderebbe soltanto di te. Condizionale. I went to the doctor, guess what he told me. Sono andata dal dottore, went al facility to go. Sono andata dal dottore, guess significa indovinare, immaginare. Quindi indovina cosa mi ha detto. Indovina cosa mi ha detto. He said, girl, you better try to have fun, no matter what you do. Mi ha detto, e lì mi ha detto, ragazza, è meglio se provi a divertirti. No matter vuol dire anche facendo, affare, importanza, materia, materiale. Ma non importa cosa tu fai. Quindi prova a divertirti e non importarti di ciò che tu fai. But he's a fool. Ma fool vuol dire sciocco. Quindi ma è uno sciocco. Ma penso sia appunto riferita al dottore. Ma comunque è una cosa sciocca. Però he quindi è una persona. Quindi ma lui è uno sciocco. Mi ha detto una cosa sciocca. Because nothing compares you. Perché niente è paragonabile a te. All the flower that you planted and mama. And to plant vuol dire piantare e fabbricare. Quindi tutti i fiori che tu hai piantato, mamma, in the backyard. Backyard è il cortile. Nel cortile. All died when you went away. Tutti sono morti quando tu sei andata via. I know that living with your baby was something hard. Io so che vivere con te, tesoro, è stato qualcosa di duro. But I'm willing to give it another try. Allora willing vuol dire pieno di buona volontà. Ma io sono sono stato molto... ce la metterò tutta per un altro... per un altro tentativo. Per un altro tentativo. Nati compare to you. Niente. Comunque ti può rimandare, ti può ricordare di te. E quindi questa canzone, come abbiamo detto, può essere interpretata a metà in metà sia nelle vesti di un amore finito male, sia di una persona che non c'è più e che comunque gli ha voluto bene e hai provato a fargli tutto il possibile per stare bene insieme. Quindi a questa double interpretation, come abbiamo detto, che hanno dato questi due, sia l'autore Prince e sia poi le interprete che ha fatto diventare grande questa canzone. Quindi lascia a voi la dedica. Lascia a voi, diciamo, scegliere quale sia il significato più giusto. Però l'importante è capire il significato delle parole di questo testo che ha fatto la storia della musica internazionale ed entra addirittura nelle 500 migliori canzoni della classifica di Rolling Stones, della rivista Rolling Stones. Quindi parliamo di un masterpiece, di un capolavoro, ragazzi. Quindi vi invito ad ascoltare il testo di purtroppo della cantante che è deceduta qualche giorno fa, Sinedo Connor, una grande artista rivoluzionaria che voleva cambiare appunto il modo di pensare avendo dei comportamenti che poi si sono rivelati lungimiranti. Quindi abbiamo detto, appunto, se vi è piaciuta la puntata vi invito a mettere un mi piace al video e iscrivete al canale Traduzione di Canzioni e Musica Spiegata per continuare insieme questo percorso di traduzione di musica, di canzoni internazionali sia inglesi sia spagnoli e anche altre lingue e anche per capire il significato delle canzoni italiane che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Quindi per il momento è tutto. Vi invito ad ascoltare attentamente questo capolavoro che si intitola Nothing compares to you della cantante, della grande artista venuta a mancare qualche giorno fa che tutti noi ricorderemo, soprattutto nella gioventù, perché negli anni 90 noi avevamo neanche dieci anni, però ci ricordiamo qualcosina. Quindi con Nothing compares to you di Sinedo Connor. Per il momento è tutto. Alla prossima. Ciao. Ciao.